Il treno regionale, 70-33, di Ferrovia Centrale Umbra, proveniente da Terni, è diretto all'Aquila, delle ore 6.56, e in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Marmore, Labromoggio, Greccio, Contigliano, Poggio-Fidoni, Rieti, Città Ducale, Castel Sant'Angelo, Canetra, Antro-Doco Borgovelino, Antro-Doco Centro, Sella di Corno, Sassa Tornimparte. Il treno regionale, 70-40, di Ferrovia Centrale Umbra, proveniente da Antro-Doco Centro, è diretto a Terni, delle ore 13.37, e in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 70-38, di Ferrovia Centrale Umbra, proveniente dall'Aquila, è diretto a Terni, delle ore 13.37, e in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 70-46, di Ferrovia Centrale Umbra, proveniente dall'Aquila, è diretto a Terni, delle ore 15.09, e in arrivo in ritardo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 70-59, di Ferrovia Centrale Umbra, proveniente da Terni, è diretto all'Aquila, delle ore 19.15, e in arrivo in ritardo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Marmore, Greccio, Contigliano, Rieti, Città Ducale, Castel Sant'Angelo, Antrodoco Borgovelino, Antrodoco Centro, Rocca di Fondi, Sassa Torni in parte.